Ingredienti Dosi per 4 persone 2 litri di brodo di manzo 400 grammi di riso 4 tuorli Succo di limone parmigiano grattugiato Preparazione Portare ad ebollizione il brodo e gettarvi il riso Frullare in una zuffiera un po' di succo di limone e un paio di cucchiai di parmigiano Cuocere il riso fino a quando non sarà al dente Versare poco alla volta la minestra nella zuffiera mescolando con una frusta Servire e passare a parte ancora con del parmigiano Il piatto è pronto Buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!